Ben trovati con l'informazione di Napoli News, apriamo il giornale parlando di cronaca. A 12 anni dall'omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Acceroli, la procura della Repubblica, delega ai carabinieri del ROS, è eseguire un decreto di perquisizione nei confronti di nove indagati. Si tratta di pezzi dello Stato, carabinieri, imprenditori. L'ipotesi accusatoria è terribile, omicidio e associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga. Tra gli indagati ci sono anche tre militari dell'arma dei carabinieri. Si tratta del colonnello Fabio Cagnazzo, del suo attendente Luigi Molaro e di Lazzaro Cioffi, già arrestato per collusioni con il clan che gestisce il traffico di droga al Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli. Con loro un imprenditore di Scafati, Giuseppe Cipriano, imprenditore che ad Acceroli in quegli anni gestiva il cinema, ma che è ritenuto dalla DDA di Salerno il trade union tra Iridosso, il boss Romolo e il figlio Salvatore, i fratelli Domenico, Giovanni e Federico Palladino, imprenditori di Pollica e proprietari di diverse strutture turistiche ricettive nella zona. L'ipotesi investigativa è che Vassallo sia stato ucciso perché voleva svelare un traffico di droga che gravitava intorno al porto turistico di Acceroli di cui era venuto a conoscenza. Il sindaco venne ucciso a colpi d'arma da fuoco la notte del 5 settembre 2010 ad Acceroli una frazione di Pollica, mentre rincasava a bordo della sua auto. Le nuove indagini, spiega il procuratore della Repubblica di Salerno, Giuseppe Borrelli, riguardano anche lo svolgimento e le reali finalità di una serie di attività investigative messe in atto subito dopo il delitto e senza delega da parte della competente procura salernitana, che ebbero quale effetto quello di indirizzare le investigazioni nei confronti di soggetti risultati poi del tutto estranei e all'omicidio. D'altro canto, aggiunge Borrelli, il decreto di perquisizione si basa su una parte degli elementi raccolti in più di un decennio di attività investigative svolte dalla procura di Salerno all'indomani del delitto. Indagini che hanno beneficiato peraltro di un profico collegamento investigativo con la direzione distrettuale antimafia di Napoli. Un collegamento che ha consentito di utilizzare i risultati di attività tecniche svolte dalla DDA napoletana nell'ambito di altre inchieste. Il procuratore della Repubblica di Salerno precisa che le ultime ipotesi investigative sono suscettibili di ulteriore verifica nel corso del procedimento, anche alla luce delle complessive acquisizioni probatorie, tuttora coperte da segreto investigativo. E adesso una notizia di politica. Per il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi rappresenta uno dei luoghi identitari della città di Napoli e dal primo sabato di agosto sarà fruibile dai napoletani anche se in attesa dei lavori di riassetto e il molo San Vincenzo dal quale si può ammirare l'intera città dal mare. Al molo si accede attraverso la base navale della marina del molosiglio che avrà un suo duale. Per la sua sistemazione è previsto un ingente investimento di circa 6 milioni di euro. Il via libera al futuro piano di valorizzazione del molo è arrivato grazie a un protocollo d'intesa sottoscritto dal ministero della difesa con il ministro Lorenzo Guerini, dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, dai vertici della marina militare, dell'agenzia del demanio e dell'autorità portuale del tirreno centrale. Con l'investimento di 6 milioni di euro il comune punta a risistemare l'accesso al molo, l'heliporto e una prima parte dei lavori di risistemazione che hanno come obiettivo quello di creare un grande porto per l'attracco degli yacht. Dal primo sabato di agosto ci saranno delle visite per piccoli gruppi di cittadini che in questa fase transitoria, mentre non realizziamo i lavori per la passerella definitiva che poi attraverserà il molosiglio, si entrerà dal molosiglio, già si potranno fare delle passeggiate quindi i cittadini potranno cominciare ad appropriarsi del molo che poi rappresenta un grande luogo identitario della città e su cui noi faremo insieme all'autorità portuale importanti investimenti perché deve diventare uno dei polmoni di questa riappropriazione del mare da parte di Napoli. L'informazione continua con Culture Coffee, la rubrica di cultura, in collaborazione con napolivillage.com Dal 3 al 18 settembre torna un'estate da re alla reggia di Caserta, cinque appuntamenti dedicati alla grande musica all'interno della reggia vanvitelliana che sono stati presentati nella sala De Santis di Palazzo Santa Lucia a Napoli. La settima edizione di un'estate da re coinciderà con la cinquantesima edizione di Settembre al Borgo, entrambi finanziati dalla regione Campania, così la direttrice della reggia Tiziana Maffei. Appuntamenti a settembre, quindi un settembre speciale che unisce la musica e anche le attività che la reggia di Caserta sta facendo con queste mostre, frammenti di Paradiso e il Piccolo Principe. Musica, arte, conoscenza di storia ma soprattutto possibilità di offrire un ventaglio e di esperienze diversificate in un luogo speciale come la reggia di Caserta. Un'attività che noi stiamo facendo molto all'interno anche dei nostri cortili. L'estate è stata dedicata al cinema, a visioni reali perché crediamo che queste piazze devono diventare piazze culturali da condividere con la comunità e con la collettività. Si parte il 3 settembre con i Carmina Burana. Il secondo appuntamento è previsto l'8 di settembre con il concerto dedicato a Fabrizio De Andrè, con la partecipazione di Peppe Servillo. La terza serata sarà in programma il 13 settembre e sarà dedicata all'amore con il Romantic Tour di Mario Biondi. Due serate speciali invece, il 17 e il 18 settembre, affidate a Claudio Baglioni, soddisfatto il direttore artistico della manifestazione Antonio Marzullo. Anche quest'anno riparte un'estate da re, grazie all'apporto della Regione Campania. dal 3 settembre abbiamo una serie di 5 spettacoli che vedranno anche un po' diversificati dagli altri anni perché si parte con i Carmina Burana di Carlo Orff con l'orchestra e il coro del Teatro Verde di Salerno e in chiusura il 17 e il 18 due concerti speciali con Claudio Baglioni che con la grande orchestra ripercorrerà un po' le tappe della sua carriera. E' quindi una serata diversa perché in un primo momento ci sarà tutta una parte dedicata all'orchestra e all'orchestrazione dei suoi brani con il suo direttore che è Jeffrey West, il già direttore artistico anche di Sanremo. Abbiamo diversificato un po' l'offerta ma anche perché abbiamo voluto anche posticipare per dare la possibilità ai turisti che vengono a settembre in Regione Campania di poter godere di uno spettacolo e raggiungere e visitare quella magia che è la Regia di Caserta. Soddisfazione nelle parole del Presidente della Regione, Vincenzo De Luca. Abbiamo oggi una programmazione culturale, una serie di eventi che è unica nel nostro Paese e di cui non possiamo non essere orgogliosi. Ovviamente questi eventi hanno un doppio effetto collaterale, un incentivo a flussi turistici nei nostri territori. Ormai abbiamo l'occupazione al 100% di tutte le strutture alberghiere della Regione Campania e la promozione di tutti i territori della Campania. E continuiamo il giornale parlando di sport. Sui campi del Ramaclub di Napoli va in scena, dall'1 al 7 agosto, la quarta tappa del circuito nazionale di tornei Open del tour maschile e femminile di Paddle, organizzato e promosso dalla Feder Tennis con alcuni tra i migliori specialisti italiani e con partecipazione internazionale. L'evento fa tappa sui campi della struttura di Viale Giochi del Mediterraneo dopo i successi dei primi tornei a Trigiano, Tolcinasco in provincia di Milano e a Rimini. Poi si proseguirà in autunno a Torino e Grosseto, prima del master finale. Angelo Chiaiese, vicepresidente FIT e responsabile Paddle in Campania. Questo è un momento importante per il Paddle in Campania. La Federazione Italiana Tennis ha dato la possibilità di organizzare questo torneo. Dobbiamo ringraziare il Ramaclub che ospita questo torneo organizzato dalla FIT. Speriamo che tutto va bene e che il pubblico sarà presente in questo torneo che è molto importante per il Paddle. Le gare in programma sono il doppio maschile e il doppio femminile con un monte premi di 12.500 euro per ogni tappa. Sono già 13 i primi categorie iscritti al Via del Torneo. Così il direttore Francesco Bellucci. Sarà un grandissimo evento. Questo è lo Slam Mini Cup, che è il torneo di Paddle in Italia più importante. E siamo a Napoli alla quarta tappa. Siamo felicissimi di ospitare questo evento che conclude una grandissima stagione di Paddle dopo l'Open di aprile. L'ultima settimana di agosto, proprio prima di andare in vacanze, chiudiamo con uno dei tornei più importanti. 12.500 euro di Monte Premi. Già si sono iscritti tra i giocatori più forti d'Italia sia maschili che femminili. Quindi siamo convinti che avremo una grande partecipazione sia di grandi giocatori che di giocatori amatoriali che si confronteranno in questa realtà del Paddle, che sta avendo un successo clamoroso. Giorno dopo giorno sempre migliore. Era questa l'ultima notizia del nostro videogiornale. Appuntamento a domani con la nostra informazione. Arrivederci. Grazie.